Buonasera Pilon, io vorrei partire proprio dalla sua esultanza sul 2-0 di Mancuso, è stata una liberazione anche per lei il raddoppio? Sì, è stata una liberazione dove è una partita molto difficile perché loro si sono chiusi molto bene e ripartivano veloci. Infatti ero preoccupato dalle loro ripartenze perché erano attaccanti molto rapidi e veloci ma i difessori sono stati molto bravi questa sera, li abbiamo chiusi bene, abbiamo fatto bene le coperture preventive e nel secondo tempo devo dire che abbiamo meritato la vittoria per le occasioni, per come abbiamo giocato, anche se nel primo tempo nonostante una manovra lenta le due occasioni importanti le avevamo avute, perciò complimenti ai ragazzi, sono contento di quello che stanno facendo, credo che siamo in linea con l'obiettivo della società, nel senso che ci era stato chiesto la salvezza il prima possibile, di valorizzare i giorni, di giocare un buon calcio, di divertirsi giocando, credo che siamo in linea con quello che in questo momento stiamo facendo. Tanta sfortuna nelle ultime gare, un pizzico di fortuna questa sera in occasione dell'autogol di Mbaye. Sì, a Perugia un gol si è fatto sulla linea in modo incredibile e stasera un autogol, il calcio è fatto così. Alle volte ti premi, alle volte no, ma sono molto contento di aver vinto questa sera perché per me era una partita molto difficile perché si è vista in campo e lo sapevo prima. Vittoria più importante per il morale o la classifica? Per il morale, la classifica lasciamo stare perché ogni volta che la guardiamo ci facciamo del male. Castrati e Scogna Miglio, direi due ottime prove del portiere e anche del difensore all'esordio. Sì, due ottime prove sia da parte del nostro portiere che noi ci crediamo molto e anche di Scogna Miglio che lo aspettavamo a questi livelli e sono contento per lui. Una gara particolare questa sera in concomitanza con Juventus Inter, vedere lo stadio così fa rabbia. Un tecnico così esperto come lei, come può giustificare una scelta così scelerata? Ma non posso giudicare quello che fanno gli altri, io sono contento di quelli che ci stanno accompagnando che anche questa sera ci hanno aiutato molto. E i tifosi del Pescara questa sera? E li ringrazio molto per essere stati presenti e per averci aiutato anche in un momento di difficoltà. Noi abbiamo bisogno di loro. Ultimissima battuta Pilon, lunedì prossimo Pescara giocherà a Verona, gara sentitissima dai tifosi, tornerà vicino casa e questa è una partita importante, subito una controprova importante dopo il successo di questa sera. Sì, sì, noi adesso godiamoci questa serata, poi da quando comincieremo ad allenarci prepareremo questa partita al meglio e ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto in tutti i campi. Grazie, grazie al tecnico del Pescara Giuseppe Pilon.